non so se mi vedete o mi sentite non lo so ci sono un po di problemi col computer è impossibile accedere a questa videochiamata quindi sto col telefonino spero che mi sentite datemi un segno ditemi se ci siete se mi sentite se mi vedete aiutatemi a capire scrivete qualcosa ditemi se datemi conferma che non sto parlando proprio assolutamente da solo qualcuno mi sta ascoltando mamma mia vedo tanta gente roberto segnere non tanta gente ma non so se se mi sentite se mi ascoltate allora io vedo tanti messaggi che scorrono stanno guardando il video si stanno guardando il video ti stanno guardando il video comunque mi arrivano messaggi che però non riesco a leggere i vostri commenti e non capisco perché oh ok aldo bardeggia che te dovemo dire quindi qualcosa inizia a leggere dai sono sicuro che mi ascoltate quindi finalmente iniziamo perdonate vabbè un po sono rincoglionito io un po stasera effettivamente c'è stato qualche problema di connessione col pc è stato impossibile proviamo così dunque iniziamo a parlare di pesca di pesca mosca quella che è la nostra passione forse passione anche un po redduttivo nel senso che per qualcuno di noi almeno per me insomma è veramente un vero e proprio stile di vita è comunque quello che dico sempre io un mondo un mondo molto basso molto grande pieno di tante piccole conoscenze piccole cose da sapere che rendono però appunto questo questo mondo così affascinante così misterioso insomma così unico chiamiamolo anche così poi spetta sempre a noi renderlo tale nel senso che c'è chi si accontenta e si ferma su alcune piccole nazioni c'è chi invece magari ho voglia di andare avanti è chiaro che come dimostrano i miei capelli bianchi inizia ad essere qualche annetto che che pratico la pesca mosca quindi questo mi rende ad oggi ahimè uno dei personaggi che un po di esperienza ce l'ha ma un po di esperienza per lo meno l'esperienza personale quella che è stata vissuta da me quella che comunque in molti di voi bene o male hanno più o meno capito come 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 io vivo questa questo mondo questa pesca mosca perché intanto vabbè a parte tutto buonasera a tutti non neanche salutato ma insomma c'è stato questo seguito molti di voi mi conoscono appunto come protagonista di una serie televisiva che è keep calm and upstream per chi non mi conosce sotto questo questo aspetto comunque ecco sono un pescatore a mosca di diciamo non vecchissima data perché non mi sento vecchio però insomma diciamo ho iniziato presto ecco diciamo così e quindi ho accumulato negli anni molta 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 esperienza che però almeno per me insomma non è mai abbastanza ossia non si finisce mai di fare esperienza non si finisce mai di imparare non si finisce mai di sapere di osservare ecco questa parola osservare per me ormai una po quello che è il motore la cosa il mio il mio maestro principale insomma è stata l'osservazione osservazione quindi dal guardare sia che pesca dall'osservare come 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 si rimentano i pesci dall'osservare le acque da osservare da osservare e osservare in generale quindi non guardare ma osservare e cercare di capire questa mia ricerca nel cercare di capire appunto mi ha portato a fare delle esperienze magari andando a a vedere quelle che sono sfumature di alcuni aspetti della pesca mosca intanto la pesca mosca è un bel è un bel come direi un bel costino diciamo è una bella responsabilità a parlare di pesca mosca perché insomma la pesca mosca è cosa seria da come la vedo io è un gran divertimento però insomma è anche cosa seria dico questo perché poi specie ultimamente un po' per i social un po' per questa facilità nel divulgare quello che sono i nostri pensieri quelle che sono le nostre preferenze si rischia di generare magari polemiche o cose quello ha detto cose quindi lungi da me tutto ciò che magari stasera dirò tutto ciò che stasera io racconterò insomma non vuole assolutamente far questo è solo va preso solo per un quello che può essere un mio pensiero e quello che che appunto sono le mie esperienze che però vorrei condividere con voi e poi magari da parte vostra avere che ne so delle risposte delle domande magari delle curiosità e intanto io inizierei col dire questo che una cosa allora un racconto un racconto giusto così per per iniziare dall'esperienza quindi tanti ricordi ho dentro questa testolina qua ci sono tanti momenti tanti ricordi tante persone conosciute tanti filmisti tante situazioni emozioni vissute ma proprio tante quindi cercare di di dargli un verso di iniziare a parlare non è non è non è veramente così facile però diciamo un attimino mi sono andato a preparare una una piccola introduzione diciamo che ho iniziato questo è importante non perché non vi voglio rompere le valle sta raccontare la vita mia come questo incomincio iniziato nel lontano no però una cosa una cosa la devo dire quando ho iniziato perché è rimasta impressa rimasta impressa un po' per tutta la vita e forse forse modo di riflessione per molti sia che si avvicina adesso la pesca mosca che si è avvicinato magari anche prima di me per carità però è un concetto secondo me da 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 un attimo da analizzare eh tanti anni fa non dico neanche la data eh il mio primo approccio appunto ehm fu in un fiume particolare eh stavo sulla parte dell'isonso italiano quindi ero in vacanza da mio fratello a Udine e un suo vicino di casa eh mio fratello insomma gli chiede guarda vabbiamo a trovare Riccardo sta qui per il periodo estivo adesso le scuole sono chiuse mi piace molto la pesca appassionato della pesca tu qui conosci i fiumi magari portalo un giorno con te io intanto scorrazzavo pescavo ecco una cosa importante io eh pescavo ehm prevalentemente a spinning e e quindi questo signore è Carlo una mattina proprio suona ci guarda io oggi vado a pesca se vuol venire ok andiamo andiamo partiamo con questa macchina si parla del più del meno la faccio molto veloce arriviamo sul fiume ognuno prepara il suo attrezzatore questo fiume è bello bellissimo adesso salvi a dire cioè ricordare proprio il punto preciso che so che era l'isonso adesso dove dove mi ha portato non lo ricordo ma non è importante questo quello che è importante è che io monto la mia canna a due pezzi da spinning e vedo che lui traccheggia un po' inizia a montare la sua attrezzatura ok tutti pronti nel montare la sua attrezzatura già io noto la la prima cosa che mi salta agli occhi è un po' questa differenza se non altro del posizionamento del muninello perché io dentro di me che ho zitto guardo però guardo la mia canna insomma la spinning il muninello lui il muninello sotto vabbè fin lì dico vabbè magari è una cosa strana che avevo quattordici anni quindi e non avevo mai neanche sentito parlare di pesca mosca ci avviciniamo all'acqua eccetera e io inizio a guardare il fiume dove posso lanciare il mio rotante che è e vedo lui che inizia con questo rumore il muninello ricordo ancora proprio il cric no? proprio cric 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 e vedo questa lenza colorata addirittura gialla e altissima dico ma che filo cosa è questo? che ne so non lo so una cosa strana però ancora un po' capito vabbè osserviamo quello che fa inizia a lanciare e vedo che questo qua inizia a volteggiare questa cosa avanti e indietro bam 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 e tiene la canna così e segue l'acqua io neanche mi accorgo di quello che non eravamo vicino a quel punto non so per forza incuriosito mi sono avvicinato un attimo no? ho fatto e dico ma scusate ma mi spieghi un attimino quello che quello che fai beh sto pescando a mosca no vabbè ok quindi dico ma dico scusa ma il filo perché cosierto eccetera lui mi ha fatto guarda io presento delle imitazioni di insetti ai pesci e i pesci si nutrono di insetti e quindi li pesco in questo modo pesco il rodante eccetera eccetera ma dico perché questo movimento continuo dico scusa non capisco e lui mi risponde questo po' beh guarda spiegarti la differenza tra la pesca mosca e come peschi tu sarebbe troppo complicato però ti posso dire una cosa necessita di questo movimento questa attrezzatura questa cosa eccetera perché l'esca che tu lanci ha un peso e con un movimento tu stai in pesca io in realtà insidio i pesci con un'esca che non ha peso e il peso è distribuito sulla coda e quindi allungando il lancio con la coda arrivo al pesce quindi che signore ha sintetizzato un attimino quella che è la nascita e l'esigenza cioè secondo me la pesca a mosca come la viviamo e come ha fatto la storia è questo cioè dall'osservazione dell'uomo vedere che il pesce si alimenta di insetti però per imitare questi insetti che appunto sono molto piccoli e non hanno peso e presentarli come l'insetto vero è chiaro che insomma sì poi ci sono altre tecniche per carità poi dopo ho scoperto del burro cose che in realtà anche io oltre allo spinning pescavo con o con il filo di piombo o comunque con la ballerina dove si mettevano queste che venivano chiamate moschette ma in realtà erano delle palline colorate con una piuma girata eccetera ma comunque io ero sempre in pesca con lancio insomma la pesca mosca questa cioè la vera pesca mosca io non l'avevo mai vista ho visto lui come l'ha effettuata e quindi sono rimasto affascinato prima di tutto dal lancio poi dal discorso che lui utilizzava i mediazioni di insetti dal fatto che i pesci si nutrissero di insetti e da lì un po' la curiosità tra lì il passo è stato breve cioè è stato l'inizio di questa droga che ancora mi porto dietro questa è una cosa che dovrebbe far riflettere perché perché appunto ripeto la pesca mosca da come la vedo io insomma ha inizio proprio così nel senso c'è questa osservazione dell'uomo nei confronti come si alimenta il pesce si nutre di insetti e quindi è da lì e questo ci fa ci fa capire tante cose oggi oggi la non la pesca mosca ma un'attrezzatura che nasce per coprire l'esigenza appunto di lanciare un esca che non ha peso cose di dopo eccetera viene utilizzata anche anche per altre tecniche che però appunto le pratico anch'io quindi non me ne vogliate non 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 attaccate su ecco questo vuole dire la pesca mosca è solo a secca il resto non è pesca mosca eccetera no io non sto dicendo sto dicendo però che comunque il motivo per cui nasce è questo è l'esigenza di lanciare un'imitazione che non ha peso da qui quindi è chiaro che si sono scritte tante pagine si sono si è scritta la storia di quella che è veramente la tecnica della pesca mosca e da qui però si evidenzia da subito da sempre secondo me guardate i tempi dei tempi del chi pesca secca quindi chi pesca galla e chi pesca sotto quindi c'è sempre è stata questa dai tempi di alford con skewers eccetera tutte queste queste polemiche questa storia io chiudo subito però questa parentesi iniziale col dire che ognuno prima di tutto la pesca è bella a 360 gradi tutta dal momento in cui qualunque pescatore fa qualunque tecnica di pesca nel rispetto del pesce della natura e di tutto è liberi di farlo quindi lungi da me nel mettermi nel piedistallo di additare che fa altre tecniche che pesca quello che dico io è che però appunto è un mondo talmente vasto talmente grande che ognuno di noi ogni pescatore chiaramente può fare una scelta può scegliere nella vita si può sempre scegliere questa scelta può avvenire da tante motivazioni la scelta può essere dettata da un'esigenza può essere dettata da una preferenza può essere dettata da una conoscenza può essere dettata da privilegiare un divertimento mi diverto di più così invece che cosa ha e può arrivare invece questa scelta dopo tanti anni che si pratica un tipo di pesca quindi dove voglio arrivare un rivale che ho premesso già all'inizio sono molti anni che pesco sono molti anni che vado per fiumi e per torrenti soprattutto torrenti poi magari dopo vi parlerò anche di queste mie preferenze e quindi diciamo che ho pescato un po' in tutte le tecniche ho pescato anche con ninfe pesanti sì ho pescato a streamers sì ho pescato utilizzando la coda di dopo ho spaziato in tutte quelle che sono le tecniche quindi il fatto che io ad oggi preferisca magari pescare a secca e andare a cercarmi la situazione e la condizione di pesca a secca anche quando magari sarebbe più produttiva un'altra tecnica non è perché sono pazzo e non è perché non le conosca ma è perché è una mia scelta è chiaro che a volte a volte a volte malgrado io insista con questa scelta e faccio eccetera in altre in altre circostanze o in alcune situazioni o addirittura meglio per andare ad insidiare alcuni tipi di pesci che insisto per forza con questa tecnica anche se vado a lucci pesca secca quindi anche se voglio fare solo selezione di una bella marmorata vado a secca comunque bisogna vedere il fiume l'ambiente ecco poi anche anche la scelta della tecnica la mia scelta per rimanere appagato è dettata molto anche dall'ambiente che vado a frequentare dal fiume che io vado ad affrontare quindi insomma si può spaziare in tante cose si può cambiare in tante cose altro aspetto molto bello della pesca mosca appunto è piena di cose di di nozioni di informazioni da sapere è veramente un mondo così grande che poi non è detto aspetta che qui mi dicono passare il dito sullo schermo passo il dito sullo schermo video sonoro ragazzi abbiate pazienza ma qua non è facile non ho mai fatto questa cosa prima tutto non ho mai parlato da solo così a lungo cioè so che ci siete voi insomma sto parlando da solo vedo la faccia mia e poi non ok quindi ah eh allora giulio marconi questo nome non mi ha parlaci della ninfa vista ah beh ok appunto poi arrivo per la ninfa vista voglio solo eh concludere quello che dicevo prima cioè stavo facendo che essendo appunto appunto un appunto appunto un mondo eh così pieno di di ci sono persone che preferiscono che ne so guarda il lancio quanti cioè il un mio amico se non tranquillamente posso dire anche il mio maestro appunto di lancio non non per perché questa poi la verità il mio ultimo magari il mio vero maestro di lancio perché poi ragazzi miei c'è bisogno della mano di qualcuno che ti guardi da fuori che ti corregga quindi ehm il mio maestro Claudio Carrara che è conosciutissimo anche lui ma soprattutto io penso ho conosciuto qualche maestro di lancio scuole eccetera eccetera però mh tanti molto bravi però insomma se non altro posso dire che mh è uno dei più bravi nell'insegnamento nel nel nell'insegnare appunto quella che è la dinamica del lancio la tecnica eh mi ha aiutato molto a a ad arrivare ad acquisire una sensibilità nel lancio e quindi poi ad andare ehm per la mia strada lui appunto lo chiamava il demone del lancio perché mh il demone per alcuni per alcuni pescatori a mosca è talmente potente talmente forte che insomma io conosco conosco persone che ehm passano più tempo a lanciare a cercare di far loop sempre più stretti distanze sempre più lunghe eccetera eccetera che ad andare a pesca stessa cosa e non 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 negatelo perché ultimamente insomma ma insomma ci sono personaggi che da sempre io vedo come 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 delle macchinette tra 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 sulla costruzione ci sono tante persone che si sono appassionate così tanto alla costruzione che ne fanno proprio ormai un è una droga è un demone anche quello il demone quindi tanti che si mettono lì oppure che ne so tanti che sull'attrezzatura sull'attrezzatura sembra il top sembra il massimo dall'abbigliamento la canna le cose eccetera quindi è chiaro che poi ognuno è libero in questo mondo di andare però una cosa l'ho capita tante cose le devo capire però una cosa l'ho capita se qualcuno di voi mi facesse la domanda che ne so che cos'è più importante l'aspetto più importante per te nella pesca a mosca beh io non saprei che cosa rispondere perché penso che un pescatore a mosca completo debba per forza saperle un po' tutte queste cose qua debba per forza conoscerle un minimo tutte per poter apprezzare al pieno la sua tecnica cioè la sua passione per e io almeno personalmente rimango felice nella quando vado a pesca quando pesca a mosca beh molti magari si aspetteranno che pesce beh sì sì e no nel senso che il bel pesce per carità è sempre motivo di soddisfazione di gioia eccetera però non nego che quando sono sul fiume vedo vedo cioè è un mese particolare diciamo il mese di maggio quindi la mia conoscenza mi dice che il mese di maggio su quel fiume adesso senza far nome posso dire nero posso dire altre però un fiume generico so che quel mese schiude un determinato insetto schiude quell'insetto quando schiude sempre tutto il giorno no perché io conosco l'insetto so che quella comunque ha i suoi orari le sue fasce degli orari quindi a secondo l'orario io so se sta per schiudere se schiude oppure lo vedo che si sta involando oppure lo vedo che già è in volo insomma tutta una serie di conoscenze anche sull'insetto quindi sto su quel fiume c'è quell'insetto è quel mese quella cosa particolare li vedo in acqua vedo il pesce che si sta alimentando e che bolla magari a galla eh io conosco l'insetto so quanto è grande la colorazione eccetera a secondo come è l'acqua eh scelgo eh la mosca appropriata per quella situazione la monto faccio un bel lancio ok presento bene la mia imitazione mentre il pesce si alimenta di quelle vere riesco ad ingannarlo con la mia quindi lancio fatto bene mosca fatta bene studio bene la situazione aggancio il pesce lo porto a guadino beh io onestamente rimango appagato perché si può dire tu ma non ci vedo tanta fortuna quello che ho detto l'ho fatto perché mi son basato sulle mie conoscenze quindi piccolo medio a me da pescatore mosca in realtà conta poco vi dirò di più pensate quanto so pazzo pure io malgrado anche se non lo prendo ma il pesce si alimenta in un punto particolare o ve la faccio ancora più grave cioè non c'è non c'è attività io sto sul fiume però proprio perché non c'è attività pesco in caccia e vado ad eseguire vado a mettere la mosca proprio io vedo il posto il rametto il posto difficile la buchetta eccetera e riesco a fare un lancio particolare dove arrivo con la mosca scende viene giù e non accade nulla io sono felice lo stesso cioè io sono appagato lo stesso sono appagato lo stesso perché ho detto ok il pesce non c'è non è salito non l'ho preso però guarda che lancio può fare cioè quindi mere gratificate da tanti aspetti nella pesca mosca nel bel lancio quando apri una scatola si è vero poi anche questa cosa si ma ma non è quante volte diceva ma il pesce la mosca non deve essere bella l'importante è cacchiappa cacchiappa cioè ok d'accordo l'importante è cacchiappa però no ecco io che costruisco una cosa fatta bene ok che imita quell'insetto imita quello stato vabbè quindi appaga me perché è fatta bene e poi ci prendo una cosa fatta talmente bene la presento bene e il pesce c'è cacchia come si dice e comunque ci va beh secondo me si rimane un po' più appagati insomma l'importanza dell'importanza della mosca non è tanto perché poi alla fine si è bello fare mosche è bello fare mosche belle al morsetto al morsetto quanti noi hanno sempre detto vabbè al morsetto tutto è bello in pesca in pesca non va quindi cioè stare attenti a trovare l'equilibrio giusto che d'accordo non serve magari fare dei modellini esagerati però insomma andiamo gli inverso a queste mosche cerchiamo dei da ehm e in alcuni tra l'altro differenza io ho letto Giulio quando parlami eh della ninfavvista non voglio dire questa cosa perché parlami la ninfavvista è brutto è brutto è brutto è brutto perché è l'altro aspetto eh molto accattivante della pesca mosca cioè saia allora eh storia anche qui ossia quando uno dice pesca a ninfa ok sulla mente tante persone immagina che tu butti in acqua aspetti che pesce a bocca eccetera in realtà specie poi per chi frequenta il gasca shark stream ma anche in altri film si pesca a ninfa ma la ninfa non è detto che debba essere pesante ma anzi a volte la ninfa è proprio di superficie però sto pescando a ninfa quindi si può pescare a ninfa vista sia perché si vede si alimenta ma non proprio sulla secca galla e quindi sotto io vedo il pesce l'antro la mia mosca che però in questo caso non vedrò galleggiare perché non è secca è sempre e quindi che succede con la pesca secca io la mosca ho modo di vedere se la mia mosca traga ho modo di vedere se il lancio ha sbagliato ho modo di vedere se il pesce la rifiuta oppure no molto meglio di quando si pesca a ninfa quindi diciamo la ninfa a vista è una un'altra dimensione è una dimensione un po' parte della mosca secca però a me sinceramente mi ha vedo se non a volte in maniera superiore perché va a stimolare anche non tanto quello che vedo ma io mi rifaccio a un personaggio che ho avuto la fortuna Stefano quando lui mi diceva quando devi pescare sul gas che a volte non vedi la bollata ma lui faceva sempre questo gesto la lo percepisci lo sai lo vedi perché vedi il pesce vedi la coda che si muove in un certo modo il pesce che si muove in un modo ma poi a un certo punto va in giù o va in su dopo che tu hai lanciato dopo che tu hai presentato la ninfa è chiaro che uno non deve andare a cercare la ninfa ma si lancia si deve avere una buona padronanza del lancio si deve e in base a questo quindi stare attenti a non far cioè io devo prevedere come scendere alla mosca ok io non sarò in grado di vedere come quella secca se è draga oppure no quindi molto più difficile e devi essere molto più preciso nel lancio anti dragaggio perché devi devi prevedere e devi far sì che la ninfa non draghi perché anche la ninfa deve arrivare in modo naturale anzi molto più della secca a volte quindi gliela devi presentare bene e e quindi si lancia e si guarda il peso guarda che bella che poi lancio la tua mosca appena arriva la tua mosca vedi stazionato e c'è poi e dentro dei te guardi no alla coda che scende il filo e dici ecco la ninfa mia arriva ecco più o meno sta lì da adesso in poi se fa uno scarto è sulla mia e vedi il pesce a quel punto il ministro o destro proprio ci sale insomma fa quel movimento che uno aspetta che è si alza la canna bam il pesce c'è cioè è bella è bella è veramente appassionante come tecnica è chiaro che è una tecnica che oltre che richiedere appunto accortezze e conoscenza di tutto dell'ambiente del lancio eccetera però appunto nell'ambiente bisogna vedere in che ambiente si fa non si può fare dappertutto cioè si fa laddove io vedo il pesce che si alimenta quindi o ne c'è extreme o in torrenti comunque c'è bisogno di qua c'è bisogno di condizioni di luce e condizioni particolari del fiume di vedere il pesce pesce ho detto questo non lo so ho chiacchierato tanto di tutte queste cose qua eccetera non so neanche quanto tempo ci avrò a disposizione non riesco a vedere se qualcuno di voi mi fa domande quindi riccardo quale torrenti ti ha messo più in difficoltà però marco ippoliti porca di marco ippoliti io lo so dove vuoi andare a parare e c'è ragione c'è veramente ragione perché il torrente in generale mette in difficoltà spiegherò spiegherò dopo però da subito voglio rispondere a marco questa domanda perché è un pescatore in pratica un torrente molto difficile dove io ho pescato con lui dove addirittura abbiamo fatto una puntata quindi è il romito è il suo torrente il suo fiume che lui conosce molto bene diciamo che adesso lo conosco anch'io perché ci sono stato con lui ci ho pescato eccetera è un torrente molto difficile molto difficile perché diciamo quali sono le difficoltà che può trovare il pescatore a mosca nella pesca in torrente beh le difficoltà possono essere sia di approccio sia per l'ambiente appunto per la conformazione del del torrente e sia proprio per come è come è strutturato l'ambiente ossia mi spiego un attimo meglio ci sono torrenti molto difficili tipo prendo un esempio alcuni tratti del corno ad esempio che invece il mio torrente reputo che sia difficile pescare in alcuni tratti del corno liberi lunghi e con vegetazione lontana dall'acqua perché perché appunto veloci veloci ma neanche troppo quindi ci sono quelle correntine con buche e piane non ci sono ripari per il pescatore il pesce è molto sospettoso e attento a ciò che avviene che ha tempo e modo di farlo tutti questi questi tratti belli aperti proprio dalla vegetazione quindi insomma la trota quella vera quella selvatica ricordiamoci che sta molto attenta ai pericoli che vengono dal suo ambiente ma sta molto attenta anche da quello che può venire dall'alto da ogni parte del fiume quindi è sempre molto sospettosa come dico è sempre gli special molto accesi quindi qui noi abbiamo lo svantaggio di essere visti di essere sentiti e abbiamo lo svantaggio appunto di essere costretti a pescare lungo quindi io dove presumo che il pesce staziona non posso avvicinarmi più di tanto perché rischio di bruciarmi la zona se io arrivo al punto dove io mi sento comodo sì io sarò comodo ma il pesce mi vedrà e quindi se ne va e lì lo perdo però però in questi ambienti ho un vantaggio da sfruttare proprio perché ambienti aperti liberi e lontana dalle sponde posso lanciare agevolmente posso allungare un bel po' di coda quindi mi è possibile pescare lungo se lo so fare e questa però può essere una difficoltà altra difficoltà un torrente che si struttura a cascate a cascatelle dove ci sono roccioni e piccole pozze anche qui anche qui bisogna la solita cosa non farsi vedere non farsi vedere e però quindi abbiamo lo svantaggio lo svantaggio che siamo costretti a pescare a corto perché non è possibile io su un terrazzo dietro un pietrone lanciare da lontano perché è impossibile devo per forza trovare una posizione più vicina più comodo quindi ho questo svantaggio però ho il vantaggio se mi muovo lentamente basso rimango sotto al cono visivo e utilizzo questi pietroni come struttura di riparo di potermi avvicinare e magari anche con poca guada fuori stando attento a non far troppo rumore nell'azione di lancio o addirittura per guardare meglio cioè si esce troppo anche con il busto si viene visti basta che ti vede una droga poi all'interno di queste cose se ce n'è più di una le bruci tutte quindi ho però questo vantaggio di potermi riparare terza situazione come diceva Marco perché è molto difficile nel romito trovo la difficoltà del corno ossia acque veloci basse molto limpide ma ho un ulteriore svantaggio cioè l'unica cosa che dovrebbe portarmi il vantaggio che è magari si ok però posso lanciare bene lancio lui quindi si rischia di essere visti acque molto limpide magari livelli bassi eccetera in più vegetazione come in alcune zone proprio del romito ma anche del corno di altri torrenti quando si affrontano questi torrenti con molta vegetazione è chiaro che diventa veramente veramente complicato perché perché non si può allungare di molto la coda quindi non si può pescare lungo anche se bisognerebbe farlo e ci si deve affidare a muoversi veramente proprio al passo del lopardo in molte situazioni magari in qualche in queste circostanze in queste circostanze addirittura pesco in ginocchio cioè mi muovo anche solo con le ginocchia oppure accucciato o gattonando perché insomma è veramente è veramente complicato pescare in questi ambienti proprio perché si ha quel poco spazio per il lancio e c'è una gran facilità di essere visti dai pesci perché appunto per pescarli bisogna per forza avvicinarsi detto questo vabbè comunque il torrente ragazzi rimane sempre nel mio cuore è sempre una grandissima scuola è sempre l'ambiente che io amo forse alla follia sopra a qualunque altro tipo di corso d'acqua poi subito dopo per carità ciaxtreme altri tipi di fiumi fiume da temolo non è che io non ami il temolo cioè io con il temolo ho sempre partita aperta è sempre una sfida però lo vedo proprio totalmente un avversario diverso dalla trota cioè con la trota ci provo e mi illudo a volte di poter capire di poterlo anticipare se io fossi trota cosa farei col temolo no cioè ho smesso ormai da tempo di cercare di entrare dentro la testa di un temolo che veramente è pazzi è un pesce pazzo è un pesce folle è un pesce così astuto è così fiero è così sicuro di sé che veramente proprio a volte ti prende proprio per il culo ti arriva a bollare fino a un metro e ti dice io mangio quello che voglio la tua mosca non la prenderò mai e quindi poi rimane sempre l'eccezione che a volte insomma sarà capitato a molti che in una condizione particolare se ci sono dieci temoli no ti viene da dire presso il decimo beh allora dai dobbiamo fare questi temoli difficili da via che cacchio ci vuole da via sì ma succede una volta nel perché quando poi si trova invece situazioni dove il temolo è selettivo dove il temolo è bastardo insomma chissà mi mi capisce allora vediamo se riesco a vedere qualche altra domanda che mi fate allora appare appare il tuo meglio una presentazione perfetta alla mosca esatta per la situazione in cui ti trovi ah beh questa è una bellissima una bellissima domanda dunque appare il tuo una presentazione perfetta o la mosca esatta per la situazione in cui ti trovi caro sarasta che poi ho scoperto che ti chiami Cristian che dire mi hai fatto una domanda che dentro la mia testa ha già dato dieci risposte ma non perché che sappia tutto su questa domanda però perché io da questa domanda mi 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 metti in moto ho scoperto tante cose quindi tu dici una presentazione perfetta a parer tuo meglio una presentazione perfetta alla mosca esatta questa è un po' la domanda che tanti pescatori a mosca negli anni si sono fatti ci siamo fatti ho sentito fare ho sentito fare e ognuno risponde poi come chiedere all'oste se è buono il suo vino nel senso che è chiaro che se tu domandi a un istruttore di lancio che cos'è più importante lui ti dirà che è più importante il lancio se tu domandi a un bravissimo costruttore di mosca lui ti dirà ma guarda se non è la mosca esatta il pesce non lo prendi quindi anche qui va un attimino secondo me bisogna dare sistemata allora bisogna dare sistemata in questo senso tutte e due come ho detto nella pesca mosca tutto è importante tutto è molto importante ma tutto non ci dà delle certezze noi possiamo però cercare certezza appunto con l'esperienza e quindi con più volte che ci si pone davanti magari più o meno lo stesso problema si cerca di risolvere in un certo modo quando si trova una soluzione quando è che io posso dire che ho trovato una soluzione quando come affronto quella situazione la risolvo e si ripresenta la risolvo di nuovo insomma quando divento costante in un risultato ottimale e buono quello che posso dirti è questo è che in alcune situazioni allora il buon lancio io la riassumo un po' così la presentazione deve essere sempre buona non dico perfetta perché poi ma chi è che è perfetto ma buona quindi devo saper lanciare dischietamente saper lanciare quindi il lancio secondo me secondo me ha sempre quel 70% in più rispetto a la mosca perché 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 comunque o che io peschi in acque mosse correnti veloci o che peschi in acque calme quasi ferme io peschi in qualunque acqua tipo di acqua io pesco devo presentare bene la mia mosca è chiaro però che in alcune situazioni la mosca si prende il vantaggio quando si prende il vantaggio si prende il vantaggio allora il pesce si alimenta a una certa velocità cioè ha un certo tipo di reazione di fronte all'insetto di fronte al cibo che gli arriva quindi se in acqua è veloce io penso sempre così penso di essere pesce io sono umano e io ho le mani il pesce non le ha alla bocca quindi se non voglio morire di fame se sto pesce e sto in acqua l'acqua è molto veloce è chiaro che se passa in fiore capisco da lontano che in fiore non ci vado ma se passa qualcosa che mi posso migliare l'insetto io comunque lo vedo è veloce l'acqua quindi che faccio senti io una dentata gliela do se poi una foglia o un rametto lo risputo che me frega ma se hai visto mai l'insetto l'assaggio e lo ingoglio questo che significa? significa che su acque veloci è chiaro che la mosca ha un po' meno un po' meno un po' meno valore rispetto al lancio ossia non richiede una perfezione maniacale nel suo modo di essere costruita quindi di stare a guardare tante cose a volte mi viene un po' da ridere no? perché io stesso per il mio gusto su una mosca per acque veloci posso mettere i due cerci poi però se non strutturo una coda bella che invece servirà in pesca cioè i due cerci li metto per me che sto al morsetto ma dietro c'è una coda che me la sorregge cioè deve essere strutturata con un materiale che galleggia bene che tiene l'acqua che è veloce che è vorticosa quindi deve essere una mosca strutturata in un certo modo però è chiaro non è che mi metto a fagli le venature delle ali oppure proprio a fagli le zampettine a contaglie eccetera perché? perché so che io lì dovrò stare molto più attento al lancio quindi presentarla già l'acqua è veloce devo fare un lancio antitragaggio che faccia arrivare la mia mosca all'eventuale pesce che si alimenta alla stessa velocità come gli arriva l'insetto vero e io so che se mi avvicino molto a quello che può essere cibo per lui io lo so che il pesce ci andrà è chiaro che però devo essere attento perché a volte bisogna bisogna lavorare non solo sulla mosca ma anche sulla lunghezza del terminale e sulla nostra reazione nella ferrata perché è chiaro che il pesce ci andrà ma sarà così veloce nel prenderla come a volte è veloce nel risputarla perché la prende si accorge che non è e la risputa molto velocemente quindi bisogna stare attenti sul torrente bisogna essere molto molto più reattivi su questo discorso specie quando si pesca in caccia eccetera eccetera e quindi qui diciamo che il lancio guadagna un bel po' di strada nei confronti della mosca cosa ben diversa questo l'ho vissuto io sulla mia pelle è in acque calme è in acque con andamento costante limpide magari con anche un bel po' di profondità perché dico magari anche un bel po' di profondità perché parlando di temoli poi non ne parliamo ma rimanendo anche sulla droda è chiaro che quando si pesca in chuck stream quando si pesca in 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 un fiume che come non nominarlo per carità potrei nominare anche i film inglesi però per esempio il gasca facciamo il gasca perché poi il gasca guarda per me è una scuola è un acquario vero e proprio dove il pescatore a mosca può vivere può imparare tante cose è un acquario tu sei privilegiato e se non peschi ma peschi con gli occhi osservi quello che succede ehm insegna tantissimo mi fa vedere come si ripienta il pesce come bolla come va a prendere gli insetti insomma insegna tante cose sul gasca è chiaro che si serve ed è fondamentale ehm un un'ottima presentazione sempre sempre che però per quanto noi siamo bravi lanciatori insomma le acqua e lente i shock stream micro dragaggi e tante cose insomma no mettono mettono ehm molto in difficoltà nel lancio però appunto ci si deve dedicare sempre costantemente a fare una buona presentazione però la mosca qui va a guadagnare secondo me a volte più punti persino del lancio perché perché io posso fare il lancio più bello in assoluto il più perfetto ma gli passo con una mosca che ha una taglia diversa o imita un insetto di cui il pesce in quel momento invece selettivo il bastardo si sta alimentando e io il pesce non lo prendo di contro azzecco la taglia giusta limitazione giusta quindi anche l'assetto di come arriva la mosca faccio un lancio magari non è perfetto però riesco a farlo poco prima del pesce ma la mosca è molto credibile ho molta più possibilità di prendere il pesce quindi cioè il pesce ha più tempo per vedere quindi non ha più questa necessità di prendere per forza quello che passa perché ha modo di guardarlo prima di andare a prenderlo specie e sottolineo specie se si tratta di acque dove magari ha già sentito l'amo in bocca quindi prima delle cascacce un attimo e poi torna a caso a volte poi dice se non batte l'alette non lo prende mica e non la prende no perché quelle che non battono le ali magari 4-5 volte gli hanno forato il lab e ci aspetta un attimo perché qui per far vedere io voglio essere sicuro che è vero questo insetto che passa lo guarda lo segue indietre e poi lo prende quindi cioè penso di aver risposto in parte a questa cosa però rimango sempre dell'idea che lancio quel qualcosa in più rispetto alla mosca ce l'ha qui mi faccio a una frase che se non erro era persino scritta su una rivista non voglio citare il nome perché forse non l'ha detta lui mi ricordo chi l'ha detta però non lo voglio dire i nomi non si fanno magari solo i cognomi no non è vero però disse appunto la mosca la vuoi comprare il lancio no e è vero in parte è vero però quello che dico sempre io cioè la mia risposta dentro il mio ogni volta la leggevo mi veniva da rispondere sempre sì ok la mosca la vuoi comprare il lancio no però vanno a pesca non è che posso comprare tutto il negozio dei moschi mi metto sul fiume incomincio dalla prima fino all'ultima e vediamo che c'è e vediamo alla fine qual è quella giusta perché se non so ma quindi serve conoscere il lancio e serve conoscere anche gli insetti poi vediamo se c'è un'altra domanda domanda qualcuno mi vuol fare non so come cazzo si fa adatti la canna all'ambiente dove peschi fiume torrente utilizzi sempre la tua sette secco da quattro allora caro paolo benedollo anche questa è una bella domanda bella domanda però diciamo che si rispondo a questa domanda però forse la ritengo non inadeguata per carità però è un po' scontata la risposta nel senso che si certo che cambio canna e magari che ha seguito anche le le i video che ho fatto avrà notato che si è sempre una bambù però è una diversa dall'altra diversa non tanto per la colorazione per la cosa che eccetera ma è diversa appunto come lunghezza e soprattutto come azione è chiaro che è è vero che la 7.6 se proprio vogliamo dirla è un po' il jolly per molti pescatori io conosco molti pescatori che utilizzano sempre la 7.6 e la 7.6 è una taglia che va a coprire un po' molte situazioni è anche vero però che in alcuni ambienti tipo ecco il torrente molto stretto diciamo romito oppure magari invece un fiume molto largo beh la canna la sua differenza la fa sia per la lunghezza perché appunto una canna più corta agevola meglio il movimento quanto sia infrascati eccetera la canna più lunga agevola nel lancio in ambienti eh grandi ma anche molto importante eh aiuta nell'eventuale gestione del pesce nel combattimento quindi a me non mi vieta nessuno di pescare in gasca con una 7 piedi il problema una volta agganciato il pesce con la 7 piedi portarlo alla riva e diventa un po' complicata perché anche alzando al massimo perché sono alto e alzo la canna eccetera ci sono gli erbai ci sono le cose quindi riesco a governare ehm a gestire male eh il pesce eh e ultimo non per ultimo appunto la oltre alla lunghezza anche la differenza di coda quindi ehm appunto sì la 7 e 6 coda 4 è quella ripeto che è un po' il jolly però insomma è non nascondo è inevitabile che pescare in altri ambienti con cose più pesanti come coda 5 coda 6 o oltre obiettivamente oltre alla 5 magari un vado però per scarico una 5 magari VF una 8 piedi dove con pochi falsi lanci utilizzando lo shooting sono eh più velocemente in pesca fa la differenza quindi cambiare la canna ma soprattutto l'azione della canna eh oltre che la lunghezza e la coda sì caro Paolo Benedollo è abbastanza eh importante almeno io lo reputo abbastanza importante rimanendo sempre sul fatto che poi se uno vuole sempre ritornando al discorso delle scelte io faccio una scelta poi io pesco sempre la 7 e 6 pesco sempre la 7 e 6 però te lo rendi il bene il male del pesca sempre la 7 e 6 questo è però sì quindi caro Paolo ottima domanda e o poi quanto Daniele Bertuzzi che miseria mai trafitto il cuore quanto ti ha deluso il social nella puntata che hai fatto eh tanto eh tanto un bel po' ma non tanto nella puntata il social mi ha un po' deluso in questi ultimi anni perché comunque io ho avuto la fortuna non solo per il social ma per tanti fiumi sia italiani che oltre i confini insomma ho avuto la fortuna di conoscere molti fiumi quando erano al loro splendore eh quando insomma insomma i pesci che erano all'interno delle loro acque anche se non erano tantissimi anche se insomma il pesce era giusto il pesce era bello eh quando si pescava in alcune zone dove si pensava che 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 lì poteva esserci un bel temolo c'era quando si cercava la bella marmolata c'era insomma quando si pescava la sera di ottobre su bollate di temoli o o a ninfo a vista appunto sia per le marmolate che per gli stessi temoli il social era veramente veramente un paradiso io sono molto legato a questo fiume è un po' è stato il mio primo itinerario fuori confine tra l'altro ho vissuto con grande gioia entusiasmo e e e e bellissimi ricordi con mio fratello e e quindi sono molto legato a questo fiume e ai ricordi che mi ha dato spero spero che ritorni ad essere il socio di un tempo perché può farlo non tanto il fiume perché il fiume se poi uno lasciasse in pace lo farebbe senz'altro ma appunto se l'uomo avesse un po' meno presunzione di aiutarlo meno forse il fiume facendo da solo migliorerebbe meglio fatto sta che se non se la pianta non ti metti idea di pronta pesca perché comunque neanche ci attacca proprio mettono pesci subito da 60 70 cm sempre solo per il pescatore è chiaro che l'equilibrio si va a stravolgere notevolmente quindi ai miei socia sei solo ancora nei miei ricordi ho però grande fiducia ho grande fiducia e ti tengo d'occhio tornerai ad essere il grande fiume che eri ho quindi chiusa parentesi con il socia madonna mia che ancora ha una fitta a cuore vediamo se ci sono altre domande fatemi qualche domanda da cristian caruso il torrente il torrente il torrente per te ho un conto in sospeso chiaro cristian che mi è rimasto qua ci abbiamo andato insieme ancora avete alcuni alcuni costicini però ne riparleremo ne riparleremo cristian caruso grandissima mano costruttiva parlando di mosche penso che sia uno dei più validi assolutamente in questo periodo da seguire poi altre domande allora questa è una domanda e se ti chiedono qual è il fiume che ti ha dato le più belle soddisfazioni eh che mica è facile cioè non è che non è facile di getto la so la risposta però insomma siccome dei fiumi li ho visti tanti ma veramente tanti mi ritengo fortunato veramente perché poi come dicevo prima li ho visti anche quando erano da vedere eh poi magari qualcuno è anche migliorato perché pochissimi eh però qualcosa è migliorato ma insomma peggiorati molti beh è the jetman era del nera io sono figlio del nera nera il corno quindi del mio fiume eh il mio eh il mio primo amore il mio insegnante più grande la mia palestra il mio struttore questo bellissimo mondo quindi sono legatissimo al nera e il nera forse mi ha dato le più belle soddisfazioni eh sia come taglia di pesce non ultimamente ma sia come taglia di pesce che come eh situazione di pesca e quindi pescare sul nera non è facile pescare sul nera è è tosta ehm è unico come tutti i filmi lo sono ma ha la particolarità a quel pepe in più che tra noi di Arnani si dice quando uno dice ma ma dai da Svezia devo pescare su sto fiume nuovo chissà come me troverò ricordati che vieni dal nera cioè questa è una frase che diciamo per di tanto male non te può andare ci metterai in bocca ma c'è la palestra del nera e quindi questa questa la voglio dire proprio per l'amore che provo per il nera ma anche perché comunque in parte è vera eh perché eh sono sicuro che è così poi eh il corno è una palestra di pesca caro Diego l'ho appena detto e te lo sottoscrivo e eh so che lo sai oh stasera è previsto vedere anche qualche tua mosca mi piacerebbe vederti costruire l'anacleto questa è colpa di Giulio eh questi nomi qui Anacleto Rocco puttanazza è tutta colpa di Giulio perché io poi in realtà le mosche che faccio non è che io do nome anzi parecchia me ne dimentico pure cioè io so altra cosa no no non farò non farò comunque vedere eh io non sono un costruttore di mosche non mi non mi reputo tale cioè il costruttore di mosche è che le fa in serie che le fa comunque eh 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 per ovunque io sono abituato io mi trovo in grande difficoltà questo periodo ma vabbè se in quarantena è molto tempo per far mosche approfittane per me non è così vi spiego subito perché perché da sempre da sempre non perché a me non piaccia costruire anzi mi piace mi gratifica mi piace molto però devo essere motivato devo avere una motivazione per fare le mosche io sono il costruttore che ogni stagione mh si mette al morsetto eh secondo il fiume che devo affrontare quindi eh che dico domani domani voglio andare su Santa Susanna porca miseria no fammi fare due spentine fammi fare due cenerine prima stavo una metto la me stimola mi tolile faccio bene caruccio quattro cinque quella che stai ma quattro cinque cioè io c'hai tornato mani sul canale poi finisco ci va questa altra settimana meno me li faccia oppure andai sul nera oppure andai sul gasca oppure andai allora è chiaro che quando c'ho una motivazione quando so che sto per andare a pesca quindi è dura questo periodo la motivazione perché insomma ma andiamo, andiamo, andiamo oltre, comunque Anacleto è forte, ma Anacleto è semplice ragazzi, poi chi ha visto la puntata per carità lo sa, Anacleto, perché comunque doveva essere la storia, allora Anacleto doveva essere la storia, perché d'automazza che Mosca sembra un pappagallo, poi però Giulio dai nomi ci malità un po' a cazzo, perché comunque Anacleto sarebbe il gufo, la civetta sulla spada nella roccia del mago se non sbaglio, cioè quello si chiamava Anacleto, non era il gufo, quello che leggeva, che sapeva tutto e che rompeva i coglioni e tutta, quindi che c'è azzecca col pappagallo, però Anacleto è un pappagallo, è un po' chiamato Anacleto perché era un pappagallo, Rocco invece, dice vabbè, perché Rocco insomma, c'è questa nataglia sopra elevata, c'è questo, Rocco ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha grosso, una mosca grossa, Rocco gli butto la Rocco per via a trotona grossa, ecco, comunque ha funzionato, cioè queste cose funzionano e non sempre vengono utilizzate, però al momento giusto poi hanno dato, hanno dato i loro frutti, però no, stasera non costruisco, parlo, so parlare da solo? No, da solo no, perché qualche messaggio lo vedo, se non altro leggo quello che chiedete, ma insomma qua mi dicono che, aspetta che mi siete spariti, non so neanche quale so, perché qua c'ho una luce, io non so neanche quale so, aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché, va bene, mi dicono comunque che posso continuare a parlare, continuiamo a parlare, dunque vediamo, 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 vediamo se c'è qualche altra domanda, non vedo altre domande, perché, perché non vedo altre domande, ne vedo tante le domande, adesso non ne vedo più, Anfame me rinneghi Giulio Marconi, me rinneghi perché? Che ti rinnego? Che ti rinnego? Anzi, t'ho detto che grazie a te c'hanno un nome di Mosca, perché te rinnego? Anzi, non ti potrei mai rinnego, non so che ti rinnego, perché te rinnego? Temoli pinna blu? Bella sta, a trovarli, Marcos, Clary, Clary, a trovarli sti temoli pinna blu, so che in qualche fiume ancora sono rimasti, poi magari se trovo qualche buonanima che sa dove sono e mi invita ad andarli a pescare, accetto volentieri, temoli pinna blu, qualcosa si prendeva sull'altosocia, 29 anni fa, non so, forse qualcuno è sopravvissuto, ma non saprei cosa dire, cosa pensi invece dell'idriza e come preferisci affrontarlo, con quali mosche? Beh, allora, con quali mosche? Intanto dipende dalle stagioni, dal periodo con cui lo affronto, l'idriza è un fiume, per esempio, a differenza del Socia, che è molto più ricco di insetti, è molto più legato al ciclo vitale degli insetti, quindi gli stessi pesci sono di conseguenza in attività secondo i periodi dell'anno. È chiaro che penso dell'idriza, penso che l'idriza sia un gran bel fiume, poi anche qui, è chiaro, la palta, io l'idriza che conosco meglio è la parte vicina a Tolmino, quindi la parte che va a finire al lago e da Mosna Soci a salire, quella la conosco molto bene, anche se ultimamente anche quella non è che se la passi molto bene, sempre per il discorso di purtroppo emissioni di ridee, però ancora qualche bella marmolata sull'idriza è rimasta a Temoli, ormai praticamente, secondo me, non dico estinti, ma insomma invece c'era una zona molto bella per chi lo conosce, diciamo, si attraversa un ponticello, si fa la strada di là, bianca, a risalire fino a una casa che è famosa per gli sloveni, perché è la casa appunto dove viveva il prete poeta, che adesso non ricordo il nome, ma è famoso lì a Kobarid, se ne trova la statua sulla sinistra appena si arriva a Caporetto, proprio sulla piazza di Caporetto, sulla sinistra c'è questa, dove una volta c'era il distributore della benzina, non c'è più, si è appena più avanti, proprio all'inizio della piazza c'è questa statua che raffigura questo prete in preiera e quindi c'è questa casetta col tetto fatto proprio di cannuccioli, ancora che è un museo tra l'altro, all'interno non sono mai entrato, però era la casa appunto di questo pastore, di questo prete e su quella piana da lì a risalire lì c'erano dei bellissimi temoli, però ultimamente invece la zona che io preferisco, dove insomma mi diverto molto, dove ci sono dei bellissimi ibridi, marmora da fario e anche perché no qui bellissimi ridee che non sono quelle scaricate dal camion già da 60, da parte bassa, oppure quelle di ceppo di ridee ha messo tanti tanti anni fa, che però ha attaccato in alcune zone, si è riprodotta, di fatto è diventata selvaggia, non autottona per carità, però nascendo sul fiume, crescendo sul fiume, la struttura, la conformazione, l'astuzia e il comportamento è assolutamente wild di questi pesci, quindi è la zona, diciamo, si può prendere come punto di riferimento andando verso Idria, il bivio per Cercno, quella che poi è la strada che riporterebbe a Scofialoga, dove poi scendendo c'è un altro fiume, un altro torrente, perché insomma proprio il fiume, non è che il Sora, la poliasca Sora, ricchissima di temoli, proprio, veramente il parco giochi, se avete un ragazzo, un bambino, chi all'inizio, c'è una prima palestra per chi inizia e per chi comunque magari ha fame o sta in astinenza di pesca al temolo, il Sora lo raccomando ovviamente, però insomma, ecco, l'Idriza da Cercno, sia a salire che a scendere, quella zona, quella è una zona tra l'altro particolare, dove molti anni fa, cioè non è tantissimo che è stata aperta un po' a tutti, cioè nel senso anche al turista, anche a noi che si viene da l'Italia, cioè era una zona, se non sbaglio, anzi no, ne sono sicuro, era proprio una zona che era dove potevano pescare solo i residenti, quindi una sorta di specie di riserva all'interno dell'Idriza, bellissimo tratto tra l'altro, sia come conformazione oltre che per i pesci, molto tecnico, molto bello. Poi qui mi dicono, Maniele Castellano hai ancora tempo a costruire canne? Eh, hai voglia, hai voglia, siamo in quarantena, quindi siamo in quarantena e quindi finché ho bambù piallo, no non è vero, sì mi dedico a quello perché comunque non sfogo, è un'altra attività, è un'altra cosa che a me piace molto fare, mi dà molta soddisfazione, molta soddisfazione per me che le utilizzo, ma mi dà molta soddisfazione forse di più quando vedo che un pescatore che la utilizza, una delle mie creazioni, le mie canne, riesce a farne buon uso, a prenderci dei bevesci, ma soprattutto a rimanere appagato dell'emozione, della sensazione che riesce a trasmettere la canna che io ho creato. E penso che tu, Daniele Castellano, ne sappia qualcosina. Stavo a scherzare boccalò. Secondo voi? Allora, secondo voi, adesso sto a leggere, stavo a scherzare boccalò. Secondo voi? Chi mi può scrivere una cosa del genere? E' solo amichetto mio, Giulio Marcone. Stavo a scherzare. A Giulietta voglio bene, poiché miseria, Giulio, 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 che dire di Giulio. Il mio compagno, il mio amico, il mio grande... Che dire, il mio grande in tutto, compagno di avventura, in questa bellissima esperienza che è stata Keep Calm and Upstream. Ah, però, guarda, e poi magari chiudo. Anzi, aspettate un attimo, perché io veramente sto a farla pareggio. Scusate un attimo. Alla salute, un boccetto di birra. Allora, prima di chiudere, due parole su Giulio. Ve lo presento. Giulio voi lo conoscete come l'autore, autore di Keep Calm and Upstream. Autore molto di più, peraltro fa tutto lui, questo va detto. Questo va detto, fa tutto lui, cosa poi, secondo me, più importante, il peso che veramente più gli sta sulle spalle, è di sopportarmi. E quindi adesso è venuto fuori in tante situazioni. Però, vabbè, Giuseppe Parenti, chi è Giulio Marcone? Cioè, vi voglio raccontare questa cosa. Perché uno dice, vabbè, ma da quant'è che lo conosci? Lo conosci prima? Come nasce Keep Calm and Upstream? Questa, ve la racconto così a titolo di curiosità. Poi, chi non gli frega niente, chiude prima. Poi, invece, a chi è interessato, l'ascolta. E' una volta detta questa. Ci salutiamo e ci diamo una buonanotte. Allora, tanto tempo fa, mai si può dire, un bel po' di tempo fa, perché già sono sei anni, non lo so, ma adesso non voglio mettere a fai conti quant'è che abbiamo iniziato. Però io me ne stavo tranquillamente sul nero a pesca, tratto macenano. A un certo punto, poi, allora, premessa, io quando sto a pesca, sto a pesca. Cioè, non rispondo manca al telefono. E chi mi chiama e mi dice, senti, scusi, faccio una guardia, sto a pesca. Dice, beh, beh, allora posso farlo. No, sto a pesca. Non puoi farciare per me. Quando sto a pesca, sto a pesca. Quindi già a me, uno che si avvicina, mi chiacchiera mentre sto a pesca, che io so abbastanza forse, abbastanza... Poi prima me lo potevo permettere anche di più testare un po' per i cacchi miei, perché, insomma, ero così famoso, si può dire, comunque conosciuto, questo lo devo dire. Ancora mi ce l'ho abituato a questa cosa, perché a volte la gente mi saluta, oppure mi guardano e hanno timore all'inizio. Non metto mai in conto che magari mi possa aver riconosciuto, infatti dopo un po' a venerla dice, ma tu non sei quello che fai... Quindi ancora mi ce l'ho abituato a... Vabbè, sto a pesca dentro al fiume, tranquillo, aggancio un bel pesce e lo sto per portare a Guadini. Fa tempo, arrivano questi due soggetti, questi due pescatori. Uno lo conosco molto bene, è Oscar, che sarebbe il cognato di Giulio. Lo conosco molto bene, perché, tempo prima, gli avevo comunque fatto un corso di lancio, quindi gli avevo insegnato quella che era le basi di lancio, all'inizio del lancio. Avevo fatto proprio un corso, quindi ci eravamo conosciuti in quell'occasione. Saluto Oscar, eccetera, e vedo sto d'inizio con la barba lì, che mi guarda dentro l'acqua, mi fa ciao col braccio, mi guarda, ma lui è mio cognato Giulio, ah sì, vabbè, piacere, ciao, e continuo a pescare. Forse già da lì loro, magari si aspettavano, io parlavo un po', ma mi affacciavo, continuavo a pescare. Sono rimasto lì un attimino, a vedere, mentre pesco, un po' per culo, un po' perché comunque era l'orario buono, una situazione buona, una stagione buona, un'otto buono, insomma, bah, te vedi un'altra bella droga, insomma, mentre stanno lì, evidentemente, ne vedi, no? E tra loro dopo parlano, ma questa è una cosa che poi io sopporto dopo, insomma, quindi Giulio fa, dice, ma chi è quello, io, ma che è quello, Riccardo, mi insegnava, non c'è acqua, lei, poi c'è, c'è questo pescato, c'è questo pescato il bambù, ma sai, fa le canne del bambù, se le costruisce lui, insomma, da quello che so io, a Giulio gli nasce un po' questa cosa, ma io non so che questo tizio, mi piacerebbe conoscerlo, perché insomma, costruisce le canne del bambù, una figata, una cosa che non sa, voglio vedere come fa, magari facciamo un piccolo video, gli voglio fare un filmatino, non lo so neanche quello che c'aveva dentro la testa, lui inizialmente, ma non lo sa lui, non lo sapevo neanche io, cioè intanto, lui mi ha voluto conoscere, mi si è presentato al laboratorio, la prima volta accompagnato da Oscar, intanto a suonare il cancello, vado a aprire, vedo Oscar, ripeto, ripeto, sto soggetto, come se cazzo, vedo sto soggetto, va a barbara, dico vabbè, entrate, io stavo lì, stavo a lavorare, dice no, guardate, dice no, sono giuri, perché sai, io faccio delle riprese, quella è, mi piacerebbe riprenderti, mentre fai canne da pesca, a me, che vuoi fare? dice no, perché sarebbe, bello vedere come, come costruisci, no, e che ce fai? dice no, ma per fare, guardate, lascia se, non me va, e la cosa rimane, quindi, a primo acchitto, ecco, si bello, che figa, no, vista proprio come, no, ma guardate, lascia se, ma però, lui, che, è un baraculo, si era già portato, a vedere canne, guarda, comunque, io stavo a costruire, stavo a lavorare, su una canne, dice guarda, comunque, ti faccio, due piccole riprese, poi, ti faccio vedere, come prova, quello che, mi ha fatto la presa, si mette là, per fare due riprese, ciao, 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 e va via, un po', mi manda, sti spezzoni, sti cose, adesso, obiettivamente, io guardo, mazzo belle, erano solo, dei piccolissimi, sketch, non so neanche, se ce l'ha più, ancora, se, se, sono presenti, nel suo archivio, fatto sta, insomma, sta cosa nasce, perché, c'era, questo interesse, te fa vedere, solo come io, costruito, con la canna di bambù, a me, queste cose, mi piace, ma, sai, ti dico, sì, comunque, è carina, mi piace, com'è venuta la cosa, sì, ma poi, dico, ma, che ce fanno, e lui, così, che so, intanto, 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 le famo, poi, non lo so, magari, da qualche parte, pubblicheremo, da qualche parte, la manderemo, ma, sky, ma, chi ce pensava, lo vediamo proprio, come una cosa, proprio, lontana, insomma, così, scherzando, hanno iniziato a fare, questi video, sulla costruzione della canna, poi, da lì, probabilmente, lui, dice, ma, scusa, ma, tu, vabbè, stiamo a far vedere come si costruisce una canna, però, pesca sul nero, il nero, sta qua vicino, io, quando vengo, fanno queste cose, eccetera, dice, fanno pure due riprese sul fiume, mentre peschi, insomma, per farla breve, è iniziata così, è iniziata, che prima ci trovavamo un attimo conosce, dovevo capire bene quello che voleva fare, un po' dalla canna ci sono passate alla pesca, vabbè, andiamo insieme sul fiume, insomma, sai, le persone comunque, piano piano te conosci l'uno con l'altro, si inizia a prendere confidenza, e sono iniziato a venire fuori le prime scene, e i primi spezzoni di ripresa, e quindi, potevo vedere quello che era il lavoro finale, che era, sì, alcune scene di pesca, alcune mie considerazioni sul fiume, ma, belle, prima serie di Keep Calm and Upstream, quindi, in dieci puntate, faccio vedere, facciamo vedere come si costruisce una canna in bambù, o perlomeno come la costruisco io, e però iniziamo a far vedere, come io vivo la pesca in Mosca, altra cosa, e altra regola, che ci imponiamo, entrambi, perché parlando, discutendo di questa cosa, andando a vedere anche sì, però, fa video di pesca, eccetera, ma guarda, se non cercavi con me, quello che ti fa vedere il pescione, andando a vedere, no, guarda pure lui da subito, allora facciamo una cosa, se tu sei disposto a metterti in gioco, io vengo con te, tu peschi, quel che succede, succede, oh, dico bravo, quello che succede, succede, nel bene o nel male, sia che prendo il pesce, sia che faccio cappotto, sia che stucco, sia che invece lo porto a guadino, qualunque cosa succede, piove, il vento, è bello, non è bello, ci mettiamo tutto, io voglio che chi vedrà, e non sappiamo neanche chi, chi vedrà queste puntate, potrà rivedersi, perché quello che poi succede a me, che va da pesca, succede a chi va a pesca, e quindi, non perché gli altri dicano bugie, ma noi abbiamo voluto essere esagerati, nel dire la verità, e quindi, è chiaro che io, mi sono messo in gioco, più di una volta, in situazioni, dove ho rischiato, di far cappotto, dove magari l'ho fatto, come sembra che, una puntata, se non ricordo, sulla sabana, c'è stato un pesce, e due pesci, però è sempre, comunque una puntata bomba, perché io anche nel rivederla, dico, parca miseria, però può succedere, chiunque vede questa cosa, però lo succede, e quindi, quando uno vede, chi calma, e chiaramente dice, oh, però fondamentalmente, è così la pesca, e qui, e quindi penso che, penso che, caro Giulio, abbiamo fatto, non un gran bel lavoro, ma abbiamo trasferito, siamo riusciti a trasferire, quello che siamo noi, io come pescatore, e tu come autore, e mio pilota, perché poi io, insomma, vado un po' pilotato, perché se me lascio lo sbaraglio, avete visto stasera, magari incomincio un discorso, mi finisco da un'altra parte, cioè ho bisogno di una guida, e quindi, caro Giulio, ormai ci siamo conosciuti, ormai me devi sopportare, ormai te devo sopportare, perché va detto, che anche io, insomma, neanche, cioè, il caratterino permoloso che c'è, neanche proprio una passeggiata, e quindi, però ormai, ce ne avremo di avventure, da fare, da vivere, da pescare, magari qualche portapesco, e tutta volta, voglio vedere, sarebbe anche ora, poi, qui che dice, qui dice, Francesco Bessina, racconta dei dori, ah 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 ah, ah 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 ah, questa, questa, allora, Francesco, a Francesco, io voglio bene, anche a Giulio, perché io ho, ho degli amici, sono fortunato, perché ho degli amici, non tantissimi, perché ognuno di noi, amici, le conoscenze sono tante, gli amici sono tanti, i fratelli sono pochi, nel senso, veramente, per me, io voglio bene, mio fratello, come Giulio, come Giuliano, come Claudio, come tanti altri, adesso non sto a nominare, non so, però Francesco, c'è, 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 un, un feeling, particolare, e lui dice, racconta dei dori, io so perché, dice racconta dei dori, perché si caga, lo so, c'è, anche io, anche io, lo ammetto, però, io non dimenticherò mai, le urla di terrore di Giulio, nel chiamarmi, e le tue urla, le tue urla, mentre correvate a bordo, del fiume, Icciani, cioè, è chiaro che, finita la storia, c'è preso a ride, la risata proprio isterica, di quello che, finalmente l'ha scampata, però, in realtà, effettivamente, ce la siamo vista brutta, allora, dice racconta dei dori, la faccio molto breve, eravamo nel lower reach, nella zona, via, vicino a Winchester, praticamente, a un milio e mezzo, forse due, dal mare, quindi, proprio vicino alla foce, posto stupendo, tra l'altro, schiuse di mosche di maggio, vabbè, mai viste, e pesci stupendi, giornata di pesca fantastica, quindi, presi da questa euforia, eccetera, però, se l'inglese, una certa ora, se chiude, se chiude, una certa ora, se magna, se magna, come scatti, cioè, fine, siamo andati un po' oltre, probabilmente, a quello che era, la, l'orario della giornata, cioè, probabilmente, da manna via un po' prima, tant'è che, poco, quando siamo arrivati, abbiamo dovuto, di vedere il cangello noi, con la combinazione, l'abbiamo combinata un po' grossa, però noi, cacchio, ne sapevamo, siamo rimasti là, fino a che non è calato il sole, però, è successo che, o perché ci volevano cacciare prima, o perché, a una certa ora, comunque, questi tori, vengono liberati, per andare, a un pascolo libero, mentre io, stavo, viegato, guardando il fiume, e guadinando, una trova appena presa, Giulio fa la ripresa, eccetera, a un certo punto, si gira, e vede, questi, questo branco di, torelli, piccoli, perché vedete, ancora piccoli, torelli, da lontano, io, ho la trova nel guadino, e lui mi fa, dice, beh, guarda, tieni nel guadino, aspetta, aspetta, guarda che bella scena, perché c'erano questi torelli, un po' pezzati, qualcosa con il verde inglese, il tramonto, eccetera, Giulio si allontana, le mie spalle, io rimango da solo, lì così accucciato, col guadino, la stavola da dentro, e la vengo dentro l'acqua, chiaramente, aspettando lui, si allontana di poco, e sparisce dietro proprio un cespuglio, quindi, io sento solo, la voce di Giulio che fa, guarda quanto so carini, guarda quanto so bellini, un po' di silenzio, e poi inizia a sentire lontano, il rumore del che lo, e lui fa, belli, poi fa, au, 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 ci questi, non si fermano, e io stavo lì, vado a trovare, dico, che devi fare giù, c'è corri ricca, io li torri, c'è stanno, ma come corri ricca, c'ho trovato dentro al guadino, devo, ma cazzo, fai, c'è corri, corri, e Francesco, da lontano, ragazzi, correte, ci sono i torri, e quindi, allora, loro soccorsi, pepe, io ce l'avevo ancora, c'è, ce l'avevo dentro al guadino, agganciato, ora che tolgo la mosca, mi ricordo, proprio, sono fuggito, col guadino, neanche l'avevo agganciato, io dal giro ho liberato la trota, e con la coda fuori, cioè, e sti torri che arrivano, cioè, stu fuggi, fuggi, io corriamo, ancora non mi rendevo conto, di quello che era successo, e in realtà, all'inizio, l'avevo un po' presi per culo, un po' so, cioè, ma che è stata a dire, ma sono Torelli, che c'è, in realtà, sì, quelli che si vedevano all'inizio, erano Torelli, quando poi ho girato il cespuglio, cioè, erano parecchi, sti tori, e qualcuno non era un torello, ma era il classico toro della corrida, cioè, era proprio il toro, quello grosso, e, loro, scappano, e sti tori, dietro, e io, a bordo fiume, però, si camminava male, allora, dico, cercavo, di frenarli, di spaventarli, e a un certo punto, mi sono messo veramente paura, perché affrontando uno di questi tori, nel più grosso, mi si è impennato, in aria, mi ha sbruffato, e mi ha battuto gli zoccoli, con violenza, a mezzo metro, dalla gamba mia, e lì, dottore, qua, tocca, avete quanto siamo forti a correre, abbiamo iniziato a correre, ho corso in parte, proprio lungo le cannucce, quindi l'acqua al ginocchio, attimi di panico, ci siamo messi veramente paura, poi, alla fine, mi sono ricordato, che da lì, prendendo una scorciatoia, e tagliando i campi, si arrivava alla recensione, dove c'era la scalettina di legno, e potevamo passare di là, ho pensato, vabbè, voi correte, io cerco di spaventarli, io aprivo le braccia, cercavo di far prendere tempo a loro, che correvano, fermarli io, per poi correre anch'io, insomma, è stata difficoltosa, siamo riusciti ad arrivare a questa recensione, una volta scavalcato, e di là, eravamo salvi, e da lì, si è messa a ridere, mentre andavamo in macchina, e tutte le belle cose, però, insomma, è stata, è stata una, un'avventura, abbastanza, abbastanza, pericolosa, da non sottovalutare, e qui non sto a raccontare, i torri sono molto pericolosi, anche i cavalli, se si incazzano, bisogna stare un attimino, perché gli animali tutti belli, però, quando poi difendono il loro territorio, comunque, fatto sta che, gran bel ricordo, però Francesco, gran bel ricordo, mi piacerebbe, a ricorrere ancora con i torri, invece che sta chiuso dentro casa, però, vabbè, poi, vediamo, un attimino, chi altro c'è, comunque, ragazzi miei, come si dice, mi ha fatto molto piacere, leggere qualche messaggio, a me mi ha fatto piacere, raccontare, parlare, questa cosa, anche se, una cosa che non avevo fatto mai, una cosa che non so neanche, quello che ho detto, a questo punto, forse mi riguarderò la registrazione, non lo so, spero, di avervi intrattenuto, comunque, in qualche modo, con argomenti, più o meno, interessanti, ma comunque, perché, si parli di pesca, perché, non si pensi, a cose brutte, che in questo periodo, circondano, un po' tutti, quindi, non voglio chiudere, assolutamente, con questo pensiero, quindi, non voglio chiudere, con tristezza, e con quello che ormai, sappiamo tutti, ma anzi, voglio chiudere, con grande ottimismo, con, la frase, ormai mitica, per tutti, che ce la faremo, sicuramente, ce la faremo, sicuramente, ci vuole solo pazienza, la grande pazienza, del pescatore, qui deve, vincerla, su tutte, quindi, teniamo duro, un altro po', e, cerchiamo di imparare, anche, in questa storia, dalle cose brutte, poi, si esce, più forti, e magari, più saggi, e, e quindi, niente, io, vi saluto, vi mando, un abbraccio virtuale, un bacio virtuale, spero, con molti di voi, di, potermi, riabbracciare, molto, molto presto, dai, andiamo a pesca, quanto prima, perché, non lo so voi, ma io, non gliela faccio, più, ciao,